Il nostro vuole essere un progetto... Nuovo passo avanti per il piano regolatore che è stato adottato dal Consiglio Comunale, siamo allo stadio delle osservazioni. Assessore, qual è il parere della cittadinanza attraverso l'esame delle osservazioni per questo nuovo strumento urbanistico? Nel PRG, diciamo della giunta precedente, la giunta Guzzi, arrivarono 1060 osservazioni. Per questo piano regolatore sono arrivate solo 270 osservazioni. Questo piano regolatore taglia tantissimo terreni edificabili. Questo permette da una parte di ridurre il consumo di suolo, dall'altra di venire incontro a tante richieste che ci arrivano dalle persone, che è quella di pagare meno IMU. Quindi abbiamo tolto tanto terreni edificabili anche per questa ragione. Questo è già un dato di fatto che incide nelle bollette dei cittadini, nelle tasse che i cittadini pagano già nel prossimo giugno 2024. Anzi, è inciso anche per la verità nell'ultima rata del 2023. Ogni frazione, ogni quartiere avrà la sua community hub dove le persone si possono radunare, si possono concentrare, possono avere delle relazioni deboli perché la crescita deve essere anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale e dell'aggregazione. E poi ci sono temi molto importanti, fondamentali per lo sviluppo di una città, che sono legati alle zone industriali, che amplieremo, ma anche legati al commercio che ridurremo e anche legati a due o tre temi fondamentali per la città. Abbiamo previsto la possibilità di fare realizzare delle terme anche con strutture ricettive e anche una parte di sanità che potrebbe essere ricavata all'interno di questo progetto. Non c'è nessun cavillo che blocca le terme, manca forse purtroppo la volontà di procedere a realizzare un progetto che noi comunque accettiamo e che riteniamo molto importante come opportunità di crescita della città e come sviluppo anche turistico della stessa. Area risorsa o area problema, anche quella dello zuccherificio? Andremo ad abbattere quegli scheletri. Si realizzerà, secondo il progetto che ci hanno anticipato e secondo la richiesta che ci è giunta, un grande impianto, diciamo plesso, dove avrà luogo un centro logistico per l'alimentare, quindi dedicato ai supermercati, tra virgolette, al genere alimentari, che non inquina e finalmente porremo fine al degrado di una zona lasciata così attraverso previsioni sbagliate del passato e che noi andiamo a correggere. In conclusione delle osservazioni, quante ne verranno accolte? Ovviamente votano i consiglieri comunali, per cui a loro è spetta dover e poter decidere se quali accogliere e quali no. L'ufficio ha dato un parere positivo alla stragrande maggioranza, al 55% oltre di osservazioni, e questo sicuramente è già un buon risultato perché le osservazioni servono perché l'amministrazione comunale collabere con i cittadini a progettare una città nuova.